Gurentag ragazzi e benvenuti o bentornati! Sul canale oggi scopriamo come sbloccare il progetto Arma Cosmo Infinito in MVZ. Ti ricordo al volo di iscriverti se non sei già iscritto ed iniziamo! Allora, innanzitutto dovremo aver già costruito il nuovo portale arrivato con la stagione 5 reloaded e se non sai come costruirlo trovi il tutorial qui sul canale, ti lascio anche il link della guida in descrizione. Comunque, prima di entrare attiviamo un contratto controllo spore perché avremo bisogno di un inibitore. Mettiamolo nello zaino. Con l'inibitore nel nostro inventario andiamo al nuovo portale ed entriamoci inserendo un sigillo antico. Il progetto lo sbloccheremo appunto solo entrando con il sigillo antico. Ti consiglio di avere un inceneritore, magari una lama eterea e assolutamente la corazza d'oro. Ad ogni modo, adesso dirigiamoci proprio al piano terra del grattacielo, esattamente in questo punto. Qui noteremo una spora, perciò utilizziamo l'inibitore raccolto in precedenza e distruggiamola. Al suo interno ci sarà un rilevatore e questo andrà nello slot delle granate tattiche. Grazie al rilevatore potremo visualizzare delle frecce nascoste che indicano una via. Continuiamo a seguire le frecce perché queste rappresentano un percorso da seguire. La strada da percorrere è sempre la stessa ogni partita, perciò te la faccio vedere integralmente, ma comunque non dovresti avere nessun problema a trovarla. Facciamo attenzione a questa zona del labirinto perché arriveranno nemici da ogni angolo, perciò facciamoci aiutare dai compagni. Comunque una volta arrivati alla fine del percorso avremo completato lo step, perciò il rilevatore non servirà più, potremo lasciarlo. In questo punto comparirà un teschio d'oro umido. Raccogliamolo. Ora spostiamoci in quest'altro punto nella mappa e andiamo nuovamente al piano terra. Qui guardando in alto noteremo una balena dorata. Saliamo sul suo dorso. Interagendo con la balena scambieremo il nostro teschio per una chiavetta USB. Raccogliamola. Ok, adesso andiamo in questo specifico edificio in C3. Saliamo al secondo piano perché quello che stiamo cercando è un computer bloccato, quindi un computer acceso con la schermata blu che segnala un problema. Questo pc sarà sempre nella stanza subito di fronte alla scalinata principale. Inseriamo la nostra pennetta USB, il computer si spegnerà e comparirà una taglia da eliminare, un lacerante potenziato, chiamato il custode delle chiavi. Perciò eliminiamolo e questo lascerà cadere la chiave della manutenzione della torre. Spostiamoci in cima al grattacielo perché la chiave appena raccolta servirà per aprire questa porta. Al suo interno ci sarà uno squarcio in cui potremo entrare solo se tutti i giocatori saranno nei dintorni, altrimenti lo squarcio sarà di colore rosso e non ci potremo accedere. Inoltre se siamo fortunati in questa stanza troveremo anche una valigetta di una Wonder Weapon. Nel mio caso ho trovato quella di una Wunderwaffe. Ad ogni modo raggruppiamoci sul tetto in modo da poter entrare nello squarcio che sarà diventato di colore viola. Verremo teletrasportati nello stesso luogo della boss fight della missione finale dell'atto 4, infatti riaffronteremo l'entità e questa volta si chiamerà l'eco dell'entità. Avremo solo 15 minuti per eliminarla e a questo giro spawneranno più zombie, più zombie speciali e l'entità sarà molto più pericolosa e avrà molta molta più vita. Il miglior modo che ho trovato per eliminarla è assolutamente quello di avere molti juggernaut in modo da poterla colpire con più tranquillità e farle davvero un bel po' di danni. Ti consiglio perciò di avere in tutto 5 juggernaut o se vuoi sentirti più sicuro portane anche più di 5. Comunque una volta che finalmente avremo eliminato l'eco dell'entità riceveremo il progetto arma Cosmo Infinito per l'STG44 e inoltre nello squarcio della ricompensa è abbastanza probabile che troveremo uno dei tre nuovi schemi e nel mio caso ho trovato lo schema dell'aumento della scorta. Nello squarcio tra le altre cose ci sarà anche il progetto appena sbloccato che volendo potremo raccogliere. Fra qualche secondo lo andiamo a guardare bene, dopodiché il portale per fare l'estrazione è proprio di fianco le ricompense. Il progetto Cosmo Infinito come detto è dell'STG44 ed è dotato anche di colpi traccianti, forse la prima arma gratuita ad averli. Probabilmente questo è il miglior progetto arma ottenibile tramite un Mr. Egg visto fino ad ora, fammi sapere se piace anche a te nei commenti. E questo era il tutorial per completare la boss fight segreta e sbloccare il progetto arma Cosmo Infinito in MVZ. Spero che questo video ti sia piaciuto ma che soprattutto ti sia stato utile, iscriviti al canale se non sei già iscritto e noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!